Ragazzoli, bentornati sul mio canale, io sono Leiser, oggi siamo qua su Brawl Stars perché sta terminando il Brawl Pass, come vedete fra 13 minuti e 50 secondi termina la season 27 di Brawl Stars, inizierà la 28 bellissima Gods vs Monsters, però abbiamo la possibilità di sbloccare Barry, molto molto interessante. Mi raccomando, prima di sbloccare Barry iscrivetevi, mettete un bel pollicione in su perché sennò poi ve lo dimenticate e attivate la campanellina per non perdervi live, video e giveaway. Adesso voglio sapere da voi nei commenti, voi Barry l'avete comprato con l'accesso anticipato, quindi a 18€ o come me avete aspettato la possibilità di sbloccarlo con i crediti? Fatemelo sapere e inoltre ci tengo a precisare, ragazzi, per le prossime volte non sbloccate i brawler epici così. Voi direte, ma perché non devo sbloccarli così? Mi dà la possibilità di selezionarlo direttamente? No, perché Barry, essendo un brawler epico, costa 925. Che cosa significa? Che voi all'interno del pass avete 1000 credit a disposizione o la possibilità di sbloccare gratuitamente un nuovo brawler. Questo, ovviamente è brawler ragazzi fino alla realtà epica. Questo, ragazzi, vi fa perdere 75 crediti che per molti di voi non sono nulla, però se volete avanzare nella fama lunare, fama saturniana, nella fama in generale, ragazzi, 75 crediti a ogni pass non fa la differenza, però intanto è qualcosina in più. Quindi, personalmente, vi consiglio, se volete sbloccare il nuovo brawler epico e avete comprato tutto il pass, andate a prendere prima i crediti, quelli da 100. Andate a vedere all'interno delle maestrie, andate a vedere dove avete altri crediti, perché ragazzi, se no ci perdete 75 crediti. Quindi, detto ciò, io ho la possibilità di, per 5 gemme vorrei evitare, volendo, ah, guarda, l'ho aperto ieri questo qua, mannaggia. Ora, voglio vedere, voglio vedere, dato che siamo a 900 e ce ne servono 25, se io adesso clicco qua, è la stessa cosa di prenderlo nella soglia questa qua, 25? Oppure mi dai 25 crediti e 75 li metti nella fama? Vediamo. Me ne dai 25 là? Abbiamo sbloccato Barry, signori, abbiamo terminato nuovamente. Ok, no, vedete ragazzi, vedete? In questo caso vi ha dato 100 crediti, facciamo finta, però poi li ha splittati 25 sul brawler e 75 sulla vostra fama. Mentre ragazzi, se voi prendevate Barry direttamente da qua, perdevate i 1000 crediti, perché in automatico vi sbloccava tutto. Quindi, giù di lì ragazzi, io vi consiglio personalmente di guardare sempre se avete i vari crediti prima, lo sbloccate così, così avete il 100% di utilizzo dei crediti e poi dopo finite a prendere questo qua da 1000. Confermiamo, prendiamo tutto, abbiamo ufficialmente terminato il pass. Ma io perché mi dimentico di prendere le skin queste qua? Ma che problemi ho? Perché? Abbiamo terminato? Non c'è più nulla? Sicuro? Ok, non c'è più nulla. Qua è tutto quanto scaduto, ovviamente. Ottimo. Qua ci sono cose incredibili. Ragazzi, tenete d'occhio sempre queste offerte, perché l'altra volta c'era Cordelius, una skin da 150 gemme a 29. Era un bug durato 10 minuti, 5 minuti, non lo so, però ci sono molte persone che hanno approfittato di questo bug e hanno preso una skin praticamente gratis. E questa cosa potete farla, perché non è un vantaggio all'interno del gioco che vi fa guadagnare coppia e così via. È semplicemente un errore del gioco per quanto riguarda le skin e potete prendervi la skin a quel prezzo. Detto questo, dov'è Barry? Andiamo da Barry. Eccolo qua, l'incredibile Barry. Ragazzi, purtroppo non lo possiamo potenziare al massimo. A quanto lo potenziamo? Livello 9. E ci prendiamo pure il gadget. Ragazzi, gadget personalmente, come avete visto da player di IFA, R, da chiunque, prendetevi coda multifunzione, che vi fa uno spin attorno a sé, sicura e respinge gli avversari. Quindi, ci pigliamo questo qua, incredibile. Ok. A livello di star power sono tutte e due buone, poi vabbè, vedremo meglio. Io direi, ci andiamo a fare una partita proprio veloce, veloce, veloce. Tanto per dire, l'abbiamo provato. Qua il pass finisce fra 8 minuti. Dai, ragazzi, ci facciamo una bellissima partita così. Sblocchiamo Barry. Vi ho consigliato come sbloccare Barry, quindi mi raccomando. Partita con i bot instant. Ragazzi, presto faremo poi le 55.000 coppe e poi si pusha come un drago le 60.000 coppe. Quanto sono belli i bot, ma soprattutto quanto è tosto Barry. Cioè, Barry, piuttosto del mondo. Madonna, quanto danno fa. Ragazzi, è incredibile Barry, comunque. Veramente tanta roba. È sta cosa che carica la ulti pure curando. Ah no, non posso più curarmi, giustamente. Vediamo così. Pure questo, raga. Raga, la ulti di Barry è senza senso. Ok. Io non so perché ricordavo avesse lo scudo quando faceva la ulti. Forse è una delle star power. Adesso andiamo a vedere. Però, raga. Possiamo dire che è un trower misto tank. Misto qualsiasi altra cosa. Perché? Senza senso. Vai, Penny. Vado io. Passami sta palla, maledetta. Passamela. Bravo. Ok, golasso incredibile. Golasso proprio mistico, mistico e confuico. Andiamo. Manca un gadget usato. Ma che dici? Va bene. Raga, fine instant. Bellissima partita. Prossimamente lo porteremo al rank 25 con gli iscritti al rank 30. Poi ci faremo il video. Quindi vi invito caldamente ad attivare le notifiche perché lo faremo in live qua su YouTube. Bello. Ci sta. Ci sta. Voglio pure la maestria perché, raga, la maestria di Barry è bellissima. Sarebbe stato bello. Leggendario mi dava la star power. Guardate la maestria di Barry. Ho sbagliato qua. Quanto è bella. Più unico che raro. Tanta roba. Bellissimo. Comunque, ragazzoli, sta finendo il Brawl Pass Plus. Incredibile. Prossimo video andiamo a scioppare. Sblocchiamo tutto il Brawl Pass Plus. Io vi ringrazio per la visione. Vi ricordo un bel pollice in su. Iscrivano se siete iscritti. Attivate le campanelline. Così da vedervi tutto quello che pubblico, video, live, giveaway, partecipare a tutto. E vi ricordo che ci vediamo tutti i giorni con un nuovo video e una nuova live. Ciao.